Netflix ha 361 dollari, questo significa che appunto per rispondere alla domanda del mio scorso aggiornamento rischio di perdere tutto, non ho rischiato di perdere tutto, perlomeno magari il rischio c'è stato ma non è successo Facendo un riassunto delle scorse puntate, circa due settimane fa che cosa avevo fatto? Praticamente il, come si vede da qui, il 4 marzo avevo venduto una put con strike a 347 dollari incassando quelle che erano un centinaio di dollari Poi avevo visto che Netflix, vediamo qui il 4 marzo, andava pericolosamente in apertura, andava verso il ribasso e quindi il mio strike e la mia put era messa a rischio Quindi ho deciso di ricomprare la mia stessa put e qui si vede bot vuol dire boat, quindi comprata Il 5 il giorno dopo ho ricomprato la mia stessa put e ovviamente l'ho pagata molto di più rispetto a quanto l'ho venduta Infatti ero in perdita di circa 200 dollari Quindi a quel punto ho deciso di rivendere la put con uno strike più basso e una scadenza più lunga Perché a scadenza più lunga ovviamente la put viene comprata ad un prezzo più alto E quindi ho potuto vendere la put a un prezzo di 4,10 dollari per cento Quindi a 410 dollari rientrando della spesa e avendo quindi un guadagno che andava a essere su due settimane questa volta Di un totale di 410 dollari Con scadenza appunto al 15 marzo, ossia venerdì scorso A questo punto però ho abbassato quello che era lo strike a 340 Vista la volatilità che si era vista molto alta in questi giorni Comunque sia la put era pagata bene e quindi abbassando lo strike e allungando il tempo Io andavo a fare comunque un profitto E quello che è successo poi è stato che nella settimana che abbiamo appena visto In realtà c'è stata una settimana di rialzo Che è questa qui Dove il prezzo Se io non avessi fatto questa operazione Che in termini tecnico è chiamata roll Praticamente sarei stato assegnato Perché poi si è visto che l'8 marzo Le azioni di Netflix sono effettivamente scese Quindi sono entrate in the money Se io avessi tenuto il mio vecchio strike Che era qui E invece sarei andato appunto ad essere assegnato Lo vediamo meglio Magari zoom un po' Questo è un grafico con in daily Ovviamente non ha senso vedere l'orario in questo momento qui Quindi vediamo che sarei stato assegnato Perché le azioni sono arrivate quindi a un minimo giornaliero Di circa 343 dollari Ma il mio strike appunto era ancora più basso Io ovviamente in questi giorni monitoravo quello che poteva succedere Perché eventualmente potevo continuare a fare questa operazione Per non rischiare di essere assegnato Però da un certo tipo di analisi Poi che si va a fare Analisi tecnica Si vedeva che effettivamente era entrato in ipervenduto E quindi molto probabilmente sarebbe tornato anche per una sorta di analisi sulle medie mobili A andare a risalire Quindi ho preferito non riacquistare la put Mantenermi sulla posizione che avevo preso E aspettare In effetti poi la riapertura è stata molto positiva E lunedì stesso c'è stata una riapertura Questa era come ci eravamo rilasciati in pratica a quel video della settimana scorsa La riapertura è stata molto positiva Come possiamo vedere in questa candela verde E poi ha portato un rialzo per tutta la settimana Netflix che addirittura ha chiuso a 361 dollari Il mio strike come abbiamo visto era a 3,40 Adesso vi faccio vedere quella che è la situazione reale Questa è la trader workstation appunto di Interactive Broker Dove faccio il mio percorso, il mio trading simulato Dove possiamo vedere la situazione attuale Quindi la put che ho venduto Mi ha realizzato adesso un profitto Cioè il profitto che avevo fatto è adesso realizzato Quindi quello che avevo venduto è effettivamente incassato Non ho più posizioni attive Infatti la liquidità è tornata ad essere 13.814 dollari E il valore di creazione netto è uguale In pratica io non ho margini al momento E il capitale disponibile I margini impiegati E il capitale disponibile è ugualmente alla mia liquidità Ossia io non ho posizioni, non ho nulla Ho la mia liquidità libera di nuovo Adesso da lunedì posso iniziare di nuovo a fare operazioni Quindi anche questa operazione singola Che è durata circa due settimane Ha portato profitto ed è andata a buon fine Tutto ciò vi ripeto sempre Io lo sto facendo perché ho imparato Ho studiato prima le basi E poi ho applicato quella che è una strategia Che ho seguito nel corso My Trading Way Di cui trovate i riferimenti qui sotto Tra l'altro Emanuele che è il dentore del corso Ha fatto un webinar proprio questa settimana Fatemi sapere chi di voi ha partecipato al webinar Che secondo me è stato molto interessante Ha spiegato anche le merit put Fatemi sapere se avete seguito Lasciatemi un commento In ogni caso ricordo che l'inizio di questo percorso È stato verso novembre Come ho fatto vedere spesso E ho iniziato con una liquidità di 10.000 dollari Questo è sempre come ripeto un percorso simulato E tutte le azioni che faccio vedere Non sono azioni dove dovete comunque copiare le mie operazioni Perché questa non vuole essere assolutamente una consulenza O un consiglio finanziario Anche perché io stesso sto imparando Sareste un po' azzardati Se copiaste delle operazioni dove io mi muovo in simulato E magari appunto proprio per non rischiare In ogni caso la liquidità è tornata a essere positiva E ho a questo punto accumulato 3.814 dollari In più di quanto ho depositato Diciamo di quanto ho settato per il percorso Ed essendo una liquidità come ho rispiegato Anche con un deposito molto basso Diciamo che sono molto molto soddisfatto E infatti questo esperimento si sta rivelando molto positivo Nell'applicazione della strategia Sto sempre valutando di passare poi un giorno ad aprire un conto reale E muovermi e continuare il percorso su un conto reale Però ovviamente voglio continuare a coprire il più possibile Diversi casi, diverse situazioni Per poter avere sempre più esperienza Vorrei arrivare a fare almeno 6 mesi di trading simulato E in realtà ci siamo quasi Quindi vediamo un attimo come prosegue Io vi terrò aggiornati tramite questa serie di aggiornamenti appunto video Che faccio settimanalmente, bisettimanalmente o comunque mensilmente Vi ringrazio intanto per l'attenzione Ci vediamo al prossimo video Mi raccomando studiate per quanto riguarda trading Se volete fare trading Assicuratevi di avere un budget sufficiente Se non lo avete investite quello che avete Principalmente per la formazione E soprattutto non vi muovete se non avete una strategia La strategia che sto utilizzando io E' appunto questa di My Trading Way Una strategia che viene illustrata In un percorso molto molto semplice L'ho fatto io In realtà basta avere quelle basi Che comunque ho coperto nella playlist Che ho presentato in questo stesso canale YouTube Trovate la playlist Trading Online Dove parto dall'inizio proprio dalla psicologia A spiegare che cos'è una put Che cos'è un'opzione Che cosa sono Quale è la differenza d'opzione e azione Fino ad arrivare all'aspetto pratico E a questo percorso qui Quindi da lì potete farvi tutta la formazione Che necessitate se partite da zero Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti